Chi dice che si deve ricercare il contrasto dei colori? Si chiede. Cerca l'armonia, non il contrasto. L'accordo, non il conflitto. Lascia che ogni tuo lavoro diffonda calma e pace. L'autunno del 1888 vive alcune settimane a fianco di Vincent van Gogh, che si è ritirato ad Arles, dove poi morirà. L'anno successivo espone 12 quadri a Bruxelles. Quando ritrae se stesso nel volto di Cristo, lo fa per suggerire come avesse accettato una vita di sofferenza. Gauguin non accetta come scopo della pittura l'uso sempre più libero di colori e forme. Dietro di essi, secondo l'artista, doveva emergere un'idea. Si lega alla cerchia dei simbolisti che si riuniscono al Café Voltaire e sempre più spesso accenna a lasciare per sempre l'Europa, ripudiando tutta la tradizione dell'arte occidentale. Nell'aprile del 1890 scrive all'amico Emilio Bernard «Sono irrevocabilmente deciso a recarmi al Madagascar. Vi fonderò l'atelier dei tropici. La vita laggiù non costa nulla». Grazie. Grazie. Grazie.